Il GSD Porto Torre si inanella la sedicesima vittoria in campionato, scrivendo un record per certi versi storico. Percorso netto in un torneo che ora vivrà il suo clou con i play-off scudetto. Ai nostri microfoni Sara Cappellini, coach dei Turitai. Era difficile effettivamente fare di meglio a questo punto, un unplay netto, però sappiamo bene che da sabato si riparte 0-0. E qua le classifiche non vale più, quanto fatto fino adesso si annulla, non nego di essere molto contenta e fiduciosa, visto anche la prova di oggi. Però inizia adesso tutta una nuova storia. Oggi sono stati pressoché perfetti, abbiamo passato la palla, in attacco siamo stati ordinati, c'è stata una buona comunicazione anche in difesa. Quindi i segnali sono positivi, ma ripeto, contro Giulianova, tra l'altro, che è un'avversaria ostica, abbiamo fatto anche la semifinale della Coppa Italia e ci ha messo seriamente in difficoltà. Siamo fiduciosi, ma andiamo con i piedi di piombo.